I cani levrieri russi sono indubbiamente gli aristocratici del mondo canino. Ecco alcuni bellissimi esemplari domestici di questa razza, che nella Russia dell'Izar erano tenuti da grandi proprietari terrieri per la caccia ai lupi, con i quali gareggiavano in rapidità e in ferocia. Chi lo direbbe vedendoli così eleganti e mansueti? Pure si racconta a questo proposito la tragica sorte toccata ad un'ancauta bimba, figlia di un intendente della casa imperiale che si avventurò nel recinto dove era rinchiusa la muta dello zar e fu letteralmente sbranata. Lo zar, inorridito dall'orribile shagura, fece immediatamente esterminare le bellissime ma selvagge bestie. Grazie a tutti!